Si chiude la prima fase di regular season nel campionato di Serie A2 di pallacanestro e per la cestistica Sansevero l'ultimo atto è di quelli troppo importanti nella corsa salvezza. Al pala Falcone Borsellino il quintetto di coach pilot reduce dal blitz di Cividale attende Ravenna. Un'eventuale vittoria consentirebbe di rimettersi alla pari con tutte le dirette concorrenti dei neri nella successiva corsa per la permanenza. Quella che si attende è una sfida all'insegna dell'alta intensità, gara aperta ad ogni pronostico con Sansevero che come sempre punterà sulla spinta del proprio pubblico per avere la meglio sull'agguerrito avversario che solo pochi giorni fa ha ceduto di misura e solo nel finale al Rimini. Ciò che è certo è che la cestistica mai come adesso è padrona del proprio destino. Palla 2 alle ore 18 con direzione arbitrale affidata a Boscolo di Chioggia, Gagliardi di Anagni e a Tarra di Priolo Gargallo.